Riparte la stagione ufficiale del Pescara, domani ore 14 contro il Chievo con la direzione di Rapuano di Rimini si aprirà il Massimo Oddo Bis dopo settimane davvero particolari che lo stesso allenatore racconta nella conferenza stampa. Da una retrocessione del Perugia che non sente sua all'emozione di tornare sulla panchina della squadra della sua città con un passato che è stato bello, ma ora si apre una pagina nuova. Io sono estremamente motivato, ancora di più perché è stato un anno brutto dal punto di vista del risultato sicuramente ma diciamo che non mi sento granché responsabile per quello che è successo l'anno scorso. La storia la sapete tutti e sicuramente negli annuari del calcio ci sarà scritto Oddo retrocesso a Perugia ma onestamente non sento molto mia questa retrocessione. Per me l'emozione c'è ma ci sarebbe stata ovunque perché nel momento in cui hai le motivazioni motivazione uguale emozione perché senti qualcosa dentro che ti spinge a fare qualcosa di importante. Vola basso Oddo e predica umiltà. Ci sono squadre come Monza e Spal fuori portata ma comunque al momento non vuole sentire parlare di playoff. Si parte senza un obiettivo di classifica ma con quello di puntare a giocare bene. Il resto dovrà essere una conseguenza. Dobbiamo concentrarci sul cercare di darci una bella identità e di cercare di far divertire la gente che va a vedere la partita che seppur ne è poca la vedrà in televisione però si vede uguale. Però in questo momento bisogna ridare anche un po' di entusiasmo. Slittano i tesseramenti di Asensio e Bocchetti che non sono convocati al pari di Borrelli, Bunino e Balzano. Ci sono Bocic e Memushai. Il centrocampista albanese reduce dall'operazione al ginocchio partirà dalla panchina come il polacco Jarosinski. La novità sarà Bellanova, titolare a destra di una difesa completata da Drudis, Cognamiglio e Masciangelo. Valdifiori e Omeonga in mediana, poi ballottaggio Busellato-Diambo. In avanti Riccardi e Galano a supporto dell'ex Ceter. Squalificato maestro. Per il Delfino la voglia di vendicare la sconfitta del Bente Godi dello scorso 31 luglio che lo condannò ai play-out. Il Chievo ha cambiato poco ma ha fatto alcuni innesti. L'ultimo un ex recente, Luca Palmiero, ufficializzato oggi. Nei giorni scorsi hanno firmato l'esterno Mogos, il centrale Ianes, gli attaccanti Canotto e Manuel De Luca. Il tecnico Aglietti dovrà rinunciare a Vaisanen, Di Noia e Giaccherini. E arriva la prima giornata con l'affanno di chi, a causa di diversi casi Covid, ha dovuto annullare tutte le amichevoli precampionato che erano state programmate. Oddo però è chiaro. È certamente una buona squadra, ha un allenatore bravo che è capace di dare molta solidità a questa squadra come ha sempre avuto da quando è arrivato lui. Sicuramente sarà una partita molto difficile. Sul fronte mercato c'è un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti Biancazzurri. Si tratta del centravanti argentino Matteo Reteghi, classe 99, giocatore della scuderia di Francesco Totti, di proprietà del Boca Junior e reduce da una discreta stagione in prestito alle Studiantes della Plata. Nei prossimi giorni il giocatore potrebbe già arrivare in città. Grazie a tutti.